Per il nuovo anno scolastico non riaprirà la scuola Pascoli di Silvi, tutti gli studenti verranno trasferiti alla Bindi e alla Pascoli rimarranno aperti solo gli uffici e così Sindaco? Abbiamo dovuto parzialmente rendere inagibile l'edificio e abbiamo indetto la chiusura proprio per una questione di sicurezza. Sono state fatte delle verifiche e degli accertamenti grazie al geometra Durante che hanno dato un esito alquanto sconcertante nel senso che comunque per questioni di staticità si è predisposta la chiusura e dato che la sicurezza è al primo posto abbiamo deciso appunto di spostare tutti i ragazzi e tutte le aule alla scuola Bindi. Mentre parte delle uffici amministrative rimarranno lì alla Pascoli e una parte andrà alla scuola Leonardo in zona Piomba. Situazione in generale delle scuole e degli istituti scolastici a Silvi qual è? Diciamo che è una situazione che interessa più che altro tutte le scuole del territorio nazionale. La buona notizia è che abbiamo presentato un progetto sul piano triennale dove è stato finanziato per il prossimo triennio un nuovo polo didattico per un importo di 11 milioni e 600 mila euro. Dunque la nostra priorità adesso sarà quella di dare una scuola e un polo didattico che sia all'avanguardia sul nostro territorio. L'obiettivo è quello nei prossimi anni di partire con questo progetto e questa realizzazione che potrà finalmente sistemare tutto il patrimonio dell'edilizia scolastica sulla nostra città. Quindi al suono della campanella il prossimo 10 settembre comunque tutti i ragazzi siederanno tranquillamente sui banchi di scuola? Allora è uno sforzo che la nostra amministrazione sta portando avanti insieme alla scuola, all'istituto comprensivo Giovanni Pascoli. Io devo ringraziare veramente tutto il corpo docente e non dell'istituto Pascoli perché veramente insieme a noi sta lavorando notte e giorno per riuscire il 10 settembre a far partire questo anno scolastico per i ragazzi in totale sicurezza e in armonia presso il plesso della scuola Bindi.